Sant'Angelo dei Lombardi per una giornata capoluogo della sicurezza e quartier generale delle forze dell'ordine. In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato si sono dati appuntamento nel comune Altirpino esponenti di grande spessore, tra questi il procuratore nazionale dell'antimafia Franco Roberti. L'Altirpina è sempre stato un territorio attenzionato dalle organizzazioni mafiose campane, proprio perché non essendo per fortuna un territorio con insediamenti mafiosi può rappresentare un obiettivo per il riciclaggio, per gli investimenti illeciti, per tutto quello che fa parte dell'armamentario mafioso, soprattutto per quanto riguarda il profilo economico. Riforma della giustizia e azione delle forze dell'ordine vanno di pari passo, cosa bisogna cambiare? Bisogna riformare assenamente la giustizia, quello che non è stato ancora fatto. In che senso? Nel senso di rendere il processo penale più efficiente e corrispondente al principio costituzionale della ragione corredurata e naturalmente della efficienza e della terzietà del giudice. Questo sarebbe fondamentale, è stato fatto un piccolo tentativo con l'ultima riforma, mini riforma del processo penale ma è solo un passo avanti, non è una riforma risolutiva a mio modesto giudizio. L'assessore alle attività produttive della regione Campania, Franco Alfieri, ha sottolineato i dati positivi registrati dalla regione Campania nell'ultimo anno sul fronte dello sviluppo. Perché laddove c'è uno sviluppo sano è più difficile che sia nedi invece chi cerca di sfruttare il malcontento, il malessere, le difficoltà e il disagio. Ma poi noi abbiamo un'azione improntata alla legalità, abbiamo approvato una legge per quanto riguarda le imprese che premia il rating di legalità, cioè le imprese che combattono la criminalità. C'è un'azione molto forte con lo sportello anti-usure e anti-racket. Tra i presenti è anche il questore di Napoli, Antonio De Jesu, per anni a capo della Polizia di Avellino. La comunità locale evidentemente riconosce nella Polizia di Stato, nel lavoro del commissariato, un grande pregio, una grande attenzione. Per noi è un motivo veramente di orgoglio, tant'è che il capo della Polizia sarà qui. Per me è un motivo di ritornare ad Avellino dopo tanti anni. È sicuramente un bel gesto, una bella iniziativa che è stata adottata.